Ciao, sono Angelo. Mi è piaciuto particolarmente U-Tour perché, vabbè, c'è stato anche Dexter ed è stata un'emozione perché lo seguo molto. Adesso ho imparato a capire che non va messa una maschera davanti per non farti riconoscere e bisogna essere se stessi. Noi in classe abbiamo un bullo che è un bambino che si crede anche un po' il figlio della classe. Quello forte. Capiamo anche un po' che è un po' anche il padre e la madre che sono molto i fighetti di turno anche loro e allora ha anche un ruolo molto importante. Secondo me è come se avesse un problema a stare insieme ad esempio a delle persone che pensa siano più belle di lui ed è insicuro di andare avanti a testa alta senza essere bullizzato a sua volta. Grazie. 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 Grazie.